ben ritrovati amici di weekend dance che ci guardate da tutta italia lo spettacolo al victory morgana bay perché c'è christian marchi e andreino voice morgana buttate telecomando e ballate insieme noi ti trovo informissima anche tu ti trovo informissima io ho dormito qualche ora per fortuna ho recuperato un po le ore piccole fatte dallo studio quindi questa sera a tutti per christian alla grande perché trasmette questa comunicazione del suono unico nel tuo genere complimenti ti ringrazio per le belle parole ma è un fratello quindi non vale ci conosciamo dato tempo però c'è un rispetto professionale perché sei bravo io poi non faccio il dj sono un vocalist faccio lo spiega in radio quindi però insomma c'è amicizia c'è stima e quando ci si vuole bene poi magari a volte eccedi no non eccedo no lui è così è talmente lui per quello piace ancora di più sono tranquillissimo lo sai stanno come sarà sempre migliore del precedente perché tu comunque stravolgi tutto no sempre sempre come dicevo prima sempre sul pezzo sempre operativi h23 diciamo una ti serve una dormire e poi dopo lavoriamo a tanta musica io sto facendo veramente tantissima musica quest'anno credo faremo una grande invasione di mercato sperando di non farci odiare di avere l'effetto boomerang l'effetto inverso questa è la quinta volta che ti intervisto a morgana a napoli ci vediamo spesso quindi è sempre un piacere condividere ballo anch'io stasera con la tua musica con le telecamere di weekend dance ti voglio carichi è dato che vogliamo farti un regalo è l'ora di christian marchi sono gli orologi superga bellissimi quindi lo indosso e ti ricordi di superga weekend grazie a superga grazie agli amici di weekend dance cominciamo eccolo qua si va let's go christian marchi dj producer per me numero uno in the world grazie non ce l'ho di parte ciao weekend ciao agli amici di weekend dance grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Vittori, Morgana Bay, Andreino Voice, benvenuto su Weekend End. Grazie mille ragazzi, benvenuti a voi al Morgana. Complimenti per l'energia che trasmetti al popolo della notte, non solo qui ma giri tutta l'Italia. Sì, abbiamo fatto parecchie date in Italia, soprattutto sul nord. E adesso poi ho preso la residenza qua, rimango qua da 13 anni, contentissimo di stare al Morgana, sto a casa mia. Abbiamo creato un bel venerdì notte, un bel sabato notte e soprattutto una bella settimana di Sanremo. Caro Andreino Voice, devi scendere anche nel profondo sud, organizziamo qualcosa di Weekend End al sud. Io adoro il sud, sono stato in vacanza al sud ed è una terra meravigliosa. Amo la Sicilia e amo la Puglia, quindi potrebbe essere un'idea. Assolutamente, ci organizzeremo, ricordate, il vocalist del Vic del Morgana Bay, Andreino Voice, ci divertiamo stasera con Cristian. Ci divertiamo tantissimo, ci sei una nap pazzesca, ci sono tanti DJ stasera, c'è Cristian Marche, quindi il divertimento è assicurato. Ma ci sei anche tu con la tua voce. Sì, sì, sì. Saluto Weekend End, Andreino. Grazie ragazzi, buona serata a voi e benvenuti a Sanremo.